Martedì della ottava settimana del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù, — Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, — In verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case, e fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni, e la vita è eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù, — Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Sembra quasi imbarazzante quello che Pietro dice a Gesù, — Noi abbiamo fatto tanti sacrifici per te, che cosa ne abbiamo guadagnato? Che è un po' quello che tutti, più o meno, pensiamo, ma che non troviamo il coraggio di dire ad alta voce, tranne poi scontrarci con la vita e magari fare esperienza del dolore. Lì, in quel momento, rinfacciamo a Dio tutto. Ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare, e che la fede mi ha insegnato. Perché hai fatto accadere questo? È inutile. È così umana questa logica commerciale in cui vogliamo far rientrare anche Dio. Gesù non sembra scandalizzato da queste parole. È bello sapere che Gesù non si meraviglia della nostra umanità, anche quando palesa degli aspetti così mediocri. Prende sul serio anche certi aspetti, ma lo fa per portarci a un livello più alto. Il contraccambio che riceviamo non è in termini semplicemente materiali. In verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto. Quel centuplo è fatto di una consapevolezza nuova che Cristo aggiunge alla nostra vita. È un di più che centuplica la nostra capacità di gustarci le cose. Cento volte in più in gusto della vita, non in semplici cose. E tutto ciò è necessario affinché non si fraintenda il cristianesimo come l'attaccamento malato alla logica del sacrificio. Vivere di sacrificio significa vivere mortificando la vita, e pensando che da quella mortificazione ne avremo una contropartita più grande. E vivere sbilanciati così tanto nell'al di là, da dimenticare completamente l'al di qua. Ma se la vita eterna è tale, significa che non ha a che fare solo con il dopo, ma anche con l'adesso. Ecco perché dovremmo sperimentare una vita eterna, una vita piena anche ora, diversamente. Saremmo solo alienati, ma non credenti. Pietro lo ha capito prima di tutti.